Google Docs è un insieme di programmi che solitamente vengono utilizzati in ambito lavorativo offerti gratuitamente da Google. Fra questi programmi approfondiremo Documenti, un programma di videoscrittura che ci consente di scrivere lettere e altri documenti contenenti non solo testo, ma anche elementi grafici come immagini, tabelle, ecc. Fra gli altri programmi presenti in Google Docs troviamo Fogli di lavoro, un programma per l'elaborazione e l'analisi di dati, Presentazioni, un programma che ci permette di creare le slide di una presentazione, Disegni, per la creazione di schemi e disegni a computer, e Moduli, un programma per la creazione di moduli e questionari. Come abbiamo accennato nel capitolo precedente, Google Docs è integrato nel servizio Google Drive. Ciò significa che possiamo creare ed interagire con i file di Google Docs all'interno del nostro Drive. Vediamo subito come funziona. Anzitutto entriamo in Google Drive. Per creare un nuovo file, clicchiamo il tasto Crea e scegliamo la tipologia di file da creare. Scegliamo Documento per creare un documento di testo. Si apre una nuova scheda del browser con il nuovo file aperto a video e pronto per essere modificato. In alto a sinistra abbiamo il titolo del nuovo documento, che attualmente è Documento senza titolo per ricordarci che non lo abbiamo ancora rinominato. Per modificare il titolo basta cliccarci sopra, inserire il nuovo titolo nel riquadro e confermare con OK. Dopo aver apportato una qualsiasi modifica al documento, come abbiamo appena fatto, il file del documento viene automaticamente salvato in I miei file, che è la posizione predefinita per ogni nuovo file creato. Possiamo ordinare i file con la modalità Modificati per ultimi per portare in cima gli elementi usati più di recente. Torniamo al documento. Se clicchiamo questo tasto, che riporta il simbolo di una cartella stilizzata, si apre un pannello che ci permette di modificare la posizione del documento all'interno di Google Drive. Il simbolo di spunta ci indica dove si trova il file attualmente. Non facciamo altro che cliccare sulla cartella dove vogliamo spostare il file e confermare con Sposta. Nota anche che possiamo creare nuove cartelle al volo tramite questo link. Per ora clicco Annulla per lasciare il documento in I miei file. L'altro simbolo di fianco al titolo è una stellina che possiamo assegnare al documento per contrassegnarlo come importante. Questo serve solo a renderlo più facilmente reperibile tramite l'etichetta speciali nella pagina principale del nostro Google Drive. Appena sotto al titolo troviamo un classico menu di funzioni molto simile a quello di tanti altri programmi di videoscrittura. Alcune delle funzioni che troviamo all'interno delle voci di questo menu sono rese più accessibili tramite una seconda riga di pulsanti. Ad esempio i pulsanti Grassetto, Corsivo e Sottolineato sono opzioni di formattazione del testo che troviamo sotto la voce di menu formato. Allo stesso modo tutti gli altri pulsanti rappresentano un accesso immediato a funzioni che troviamo sotto una delle voci del menu. Grazie alla funzionalità di salvataggio automatico integrata in tutti i programmi di Google Docs, tutte le modifiche che apportiamo vengono automaticamente salvate. Ce ne accorgiamo grazie a questa scritta alla destra del menu. Nota che appena il documento viene modificato, il salvataggio automatico entra in azione. Bene, per imparare ad utilizzare il programma di elaborazione testi di Google Docs, nei prossimi video proveremo a riprodurre un testo. Se dovessi averne bisogno, in appendice al corso trovi un ripasso veloce sull'utilizzo della tastiera.